La settimana prossima dai fly del Marco Polo di Tessera partirà l'esposta in procura per le pericolose condizioni sanitarie cui sono costretti a lavorare gli autisti del bus navetta che dai gate accompagnano i passeggeri direttamente all'aereo. Abbiamo dei mezzi che sono molto vecchi, obsoleti, dove c'è puzza di olio combusto e carburante all'interno della cabina. Perché? Perché non c'è manutenzione da anni, perché mancano le guarnizioni di chiusura dei vani che devono sigillare il motore e in molti finestrini non funzionano, ancora peggio ci sono sedili che sono ridotti alla sola struttura metallica. Tra le problematiche emerse nel corso dello sciopero di 24 ore allo scalo veneziano, del personale addetto ai varchi di sicurezza e degli handler pesantemente sotto organico, soffrono turni di lavoro massacranti, ferie non concesse, straordinario non pagato tra i tanti problemi. Già sette dipendenti in fuga nel solo mese corrente raccontano nel corso del presidio. A spanne 1 a 100 perché di passeggeri è sempre molto alto il volume. Noi dobbiamo mantenere delle tempistiche di velocità ma al contempo dobbiamo mantenere uno standard qualitativo che deve essere molto alto. Siamo assoggettati a continui controlli, audit qualitativi, però di altra parte non abbiamo la possibilità di una formazione che sia continua e necessaria. Voli cancellati, ritardi su ritardi accumulati per ore, lo specchio di quanto è registrato al Marco Polo di Tessera fino alla mezzanotte di martedì 28 maggio per questo sciopero che per i fly continuerà a oltranza, dicono, finché non troveranno una quadra anche con il prefetto. Tutte cose che possono solo portare benessere al lavoratore a lavorare meglio in un ambiente che sta diventando sempre peggio.